Due semplici modi per eliminare o diminuire il tuo codice a paresi con tutte quelle rughettine che ti trovi sopra le labbra Come? Adesso te lo faccio vedere Questi due metodi li puoi combinare insieme, addirittura combinati insieme, daranno ancora più risultati Come ti spiegavo negli altri video, le tue rughe si creano proprio perché il muscolo è molto atteso Fai sempre le stesse smorfie, perciò a lungo andare si creano tutte le rughettine Adesso, cosa dobbiamo fare per diminuirle? Dobbiamo in primis rilassare il muscolo, soprattutto questo qua Come lo facciamo? Dita pinza e schiacci le labbra Se lo vuoi fare durante la skin care puoi scivolare, altrimenti passi le dita E lo fai per circa un minuto Dopodiché le schiacci con due dita in centro e trattini 3-5 secondi e lo fai per 3-5 volte Prendi il nastro kinesiologico Misuri la lunghezza da una parte all'altra delle labbra Quindi tagli a metà, sovrapponi, arrotondi le punte, così non si staccherà durante la notte per esempio Pezzi a metà e vedi che deve essere elastico da questa parte Apri, appoggi, non tiri niente E appiccichi i lati lungo le labbra Fai un baffo Fai la stessa cosa da sotto Massaggi un pochino Per attivare il nastro kinesiologico E vai a dormire Sì, sembro un clown Però fidati Fallo per 2-3 settimane, tutte le sere E poi mi dirai se ha funzionato Tanto, che ti costa provare? E se non ci credi? Provami che sbaglio Ogni modo è buono per convincerti di fare qualcosa per te stessa